375 film in cartellone per 8 giorni di proiezioni e 67.000 spettatori, 10.000 in più dello scorso anno, fra Piazza Maggiore e le 4 sale cinematografiche dei cinema Arlecchino, Giolli e Lumière, fra cui 1.500 accreditati, di cui la metà stranieri in rappresentanza di una quarantina di paesi. La Cineteca di Bologna vince anche quest'anno la scommessa della rassegna del cinema ritrovato. Siamo riusciti in un miracolo da un lato di avere un grande pubblico internazionale di specialisti, di attori, di registi e dall'altro avere un pubblico di appassionati della nostra città e di avere anche fatto vivere in maniera diversa il nostro quartiere, quello della Manifattura delle Arti e tutta Via Lame con le 4 sale cinematografiche in attività dalle 9 del mattino, piene dalle 9 del mattino. E anche l'economia del territorio ne risente, Via Rivareno ha calcolato un indotto di 600.000 euro grazie al pubblico attirato dal programma. E il tutto continuerà con sotto le stelle del cinema, con i complimenti degli addetti ai lavori internazionali. Prosegue il grande piacere per il cinema, credo che sia un'esperienza collettiva, molti degli ospiti internazionali l'hanno detto, è qualcosa di unico, quello che avviene ogni sera in Piazza Maggiore per 40 serate è qualcosa che non avviene da nessun'altra parte del mondo. Infatti, noi lo diciamo, è il cinema più bello del mondo. Prosegue poi la raccolta di fondi della Cineteca. Attraverso le tessere sostenitori del cinema ritrovato, sono arrivate in cassa 19.000 euro. Attraverso le tessere sostenitori del cinema ritrovato, sono arrivate in cassa 19.000 euro.